Io sono Karen, lei è Peggy, è una cucciola di barbone grande mole. Bravissima, ripeto costantemente brava il cane perché allora così capisci che deve continuare a stare ferma nella solita posizione. La comodità di questi tavoli è che il cane non viene preso in braccio e quindi non fa neanche lo sforzo o subisce il trauma di essere preso. Eccoci qua. E ora andiamo nella zona lavaggio. L'acqua esce con l'ozono, si miscela dentro l'acqua perché l'ozono è tosse per respirarlo, però qui viene disciolto nell'acqua e questo abbatte la carica batterica sulla pelle del cane. Quindi è utilissimo per le dermatite, per le piccole ferite, per i brunini del cane. I prodotti che utilizziamo sono tutti i prodotti biologici, ci sono tutti i saldi, sono eccellenze per la cana e lo shampoo che hanno scelto in base al tipo del manto del cane. Abbiamo anche la lavatrice PET per lavare le copertine dei cani, le loro cuccette dove si siedono. Come è accaduto, giustamente, il lavatrice non chimisca la roba del cane con gli strumenti di casa, noi lo abbiamo messo a servire. E' molto silenziosa, i cani sono più tranquilli, in quanto la fase della struttura. Queste bollicine, queste bolle hanno un effetto massaggiante sulla pelle. per i cani anziani è un po' casano, specialmente quando hanno dolore articolari. Noi facciamo, oltre alla pulizia delle orecchie che ho appena fatto con il suo prodotto, controlliamo sempre le unghie, se sono da tagliare, in questo caso sono corte perché non escono fuori dal colpastrello, se no interveniamo per tagliarle anche. E' un servizio coffiano insieme al lavaggio. Ciao, siamo Roberto e Karen e ci siamo trasferiti da Roma, qui ad Avellino. abbiamo aperto la toilettatura. Siamo in via Cristoforo Colombo, numero 31, vicino ai Coldiretti e vi aspettiamo.